e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono serma che vi sta assolutamente aspettando per questa nuova avventura che oggi lo sono portato in questa pizzeria dove abbiamo praticamente facciamo fnaf 3 dovrebbe essere aspettate un attimo devo sedere un po più qua o sedete bene un po più avanti ok praticamente questo è il nostro tavolo con queste tre bellissime statuette con fanta e freddy il monitor e un altro monitor quindi sono pronti a vedere il monitor allora aspettate cambiamo possiamo cambiare le telecamere guarda non ci sa nessuno per ora se qualcuno non vedo nessuno oddio si che c'è qualcuno e qui è springtrap il animatronics preferito allora che facciamo tolgo map no oddio che no ora cambiamo cam dovrebbe andarsene via ok finalmente se ne è andato perché ne abbiamo trasportato ne abbiamo trasportato uh perché perché tutto questo nero perché tutto sto nero raga perché tutto sto nero perché tutto sto nero perché ok abbiamo completamente disteso l'abbiamo mandato qui play audio che è successo perché non posso bufare l'audio audio error che vuol dire audio error forse aspettate un attimo la gas prego troppo è rimasto qui il problema ok sono andato è andato un po più vicino però un grave problema aspetta cosa facciamo possiamo il monitor possiamo il monitor controlliamo un po la finestra non ci sta niente vediamo oh possiamo mettere le cose quindi io dico abbiamo possiamo uscire da qua possiamo resettare la ventilazione e le penne le telecamere e l'audio audio 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 ok ora possiamo farlo ok ok oh ma i telecam non ci servono per ora oh abbiamo una saluta di springtrap ciao springtrap haha proprio lui che ci saluterà allora non sta succedendo niente perché? google map possiamo vedere telecamere condotti? possiamo vedere telecamere condotti? per ora io non vedo nessuno e questo non mi piace Oddio Troppo sei infilato Chiudiamogli la porta in faccia Pam Ora si deve andare via Chiudi 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 Che sono andato Perfetto L'abbiamo respinto E invece E poi non avete notato Che abbiamo anche la statuetta di Funtime Freddy Che chiama il suo bomba Questa volta vi ho fatto vedere Una boxing Questi metto a posto Le statuette Non so cosa farci Raga sono le due Ancora Chi è che cosa What the fuck Che è quel coso Ok se ne è andato Per fortuna se ne è andato Vediamo le telecamere che non ci servono La statuette di Springtrap Ciao ciao Allora Questo è un bel divano Oh con cui abbiamo Un germometro Come cappero si dice Raga sono le tre Sono le tre No sono le quattro 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 Guardate il coso di Cars Che io lo mettiamo Qui No dove lo mettiamo Qui A destra Guardate un po' che bello Mentre la statuette di Springtrap Ci sta ancora Me la prendo Guardo le camere Mi guardo da un sacco di tempo Poi clicca qui Clicca qui Clicca qui Clicca qui E controlla 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 Non aspetta non vedo niente Non vedo niente Vedo niente Ok Uh si è sbossolata Guardate Non cade manco Andiamo Andiamo Qui Andiamo Andiamo Ovviamente Ora diventiamo Te scuri Aspettate che si le Nevato Ora ovviamente Lui stesso per terra Va bene Chiudiamolo molto Cos'era Cos'era quel rumore? Cos'era quel rumore? Lago non dirmi cos'era quel rumore Non ditelo Non ditelo Non ditelo Non vi azzardare A ditelo A ditemelo Come 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 Cappero si dice Qua abbiamo anche Un Hula Ciao Lavoro Lo vedete Nelle cose che faccio Così che c'è scritto Copri divano Quattro poste Abbiamo così come Il divano Che ho comprato Qua sanno tutte le cose Mi fa Ten freddi Guardiamo le telecamere E apriti E guarda E qua E qua E qua Ok Ok Però qui Fai Non si capisce niente Qui sono Qui sono Qui sono Cambiamo la ventilazione Cambiamo la ventilazione Cambiamo la ventilazione Cambiamo la ventilazione La ventilazione non si capisce niente Non si capisce niente Sto cliccando Ok abbiamo risolto Il problema di ventilazione Chiudiamo il monitor Controlliamo Il freddi Sono Gentili Penso Non lo so Che mi impaurosisce Quindi guardiamo il monitor Con il pupazzo Oh Aspetta Cambiamo 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 Un'altra volta c'è il polvo Un'altra volta c'è il j Un'altra volta c'è la pappet Che è quello Che è questo coso Portami il monitor Aspetta ragazzi Il video si conclude qui Spero vi sia piaciuto Sono tutto nero però Le ho fatte le 6 E noi ci vediamo La prossima volta Ciao E ciao dal gioco Ciao